Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli è sottoposto a sequestro in un'area montuosa del Comune di Lettere, già utilizzato in passato per l'occultamento di armi, 50 munizioni e un caricatore. In particolare i finanzieri della Compagnia di Castellammare di Stabia, nel corso di una perlustrazione di un fondo agricolo coltivato e delimitato da un muro, hanno individuato un'intercapedina all'interno della quale erano nascoste delle cartucce. Nello specifico, le 50 munizioni e il caricatore, perfettamente lubrificato e di recente fabbricazione, sono stati scoperti in un barattolo di plastica nascosta all'interno di una nicchia ricavata nel muro in pietra. Sono in corso accertamenti per individuare il proprietario del fondo e verificare eventuali collegamenti con fatti di sangue e intimidazioni. L'operazione di servizio si inquadra nell'ambito della costante attività di controllo del territorio disposta dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli, nelle aree più sensibili a maggiore densità criminale e riflette le recenti indicazioni del prefetto di Napoli, Marco Valentini, in merito all'esigenza di maggior controllo della circolazione delle armi nel napoletano.